Non siamo noi quelli che dovrebbero educare le nuove generazioni, dire ai ragazzi che essere eterosessuale, omosessuale, bisessuale, quello che vuoi, non fa differenza. Non siamo noi adulti che dovremmo dire questo ai ragazzi, sì, ma lo facciamo. No, e perché non lo facciamo? Ci vergogniamo di qualcosa? Magari i genitori vengono a scuola e dicono di che cosa avete parlato? Avete parlato in classe di orientamento sessuale? Come vi siete permessi? Abbiamo paura di questa cosa? Sbagliato. Dobbiamo parlare di queste cose. Voi ragazzi, io mi rendo conto di come siete più aperti. Ecco perché dico, quando voi diventerete educatori, non vi fate mangiare dal vecchiume che c'è oggi. Portate il nuovo nella scuola. Parlate con i vostri studenti di queste cose.